Ciao ragazzi, oggi è un giorno speciale, specialissimo, qua come Dado Bertonazzi che mi aiuterà a tradurre e niente di meno che David Garibaldi. David Garibaldi, vabbè, oltre che essere probabilmente il mio eroe, il mio eroe è il mio maestro, è amico, grande fonte di ispirazione, ogni volta per me è un'emozione stare con lui, è troppo bello questo, perciò io partirei facendogli delle domande già più chiaro, dividerei la situazione in due parti, no? A parte il Tower of Power, partiamo dal Tower of Power che ovviamente non ha bisogno di presentazione David, è probabilmente l'icona del funk, io direi secondo me tra i migliori, forse il migliori batterista funk esistente, ormai leggenda direi, no? Tutto ciò che è stato scritto, fatto e suonato da lui. Ok, la prima parte la dedicherei proprio a parte proprio suonata a chiedendogli di gru, adesso, dandogli glielo chiederà... un'icona di Tower of Power for us. Oh, yeah. Ok, so, anything specific? Oh, do you want? No, no, no. Tower of Power grooves. Ok, here's one from, uh, uh, Pocket Full of Soul. Pocket Full of Soul. Oh, yeah, right. One, two, three, four, one, two, three. That's one of my favorite ones, because it's different. questo è il libro fantastico dove c'è su anche questo groove e tantissimi altri fantastico easy easy bellissimo ce ne fai un altro una metà metà periodo questo è il primo periodo no è storico ci ha fatto sentire uno moderno che è stato quello di prima questo è il primo periodo di l'era dell'era sì, abbiamo fatto un altro che è in 6, è chiamato il nome di GONGET IT WITH YOUR GOOD CREDIT You know that one? No, I don't know that one. It's in six. It's all the... It would be interesting, Franco, to understand his approach with the left hand. It's important. I did a previous lesson, based on this aspect, and we have one of the authors of this, right? You use your left hand to play all that ascent and rebounds dynamics. That would be the accent of rebounds and the accent rebounds on the funk. But the important thing. So the left hand stuff came from listening to, you know, like James Brown. All the ghost notes, right? The phantasma. Not the phantasma. Not the phantasma, great. Okay, so... No, no, no. And so, when I started, and then I heard, you know, Zigaboo with the meters, right? And then I learned about the kind of... everything was kind of broken up in a linear sort of way. At a certain point, he had discovered, after having discovered the groove of James Brown, he discovered Zigaboo Modelist, the meters, which has a groove a bit between straight and shuffle, in between straight and shuffle. Yeah, but mostly how he separated things. You know, to create the sixteenth note. To create the sixteenth note. To create the groove of the sixteenth. Right. So, my idea was to try to keep the line of the sixteenth notes going without having to do it on one hand. Okay. So, that's how I developed all the left hand things. You can do it with a... like paradiddle, you know? So, the ghost note, the phantasma, right? Very small, very relaxed. So, he created a pattern, for example, by showing you the sixteenth notes with the paradiddle, with the ghost notes very relaxed and very low as a dynamic. Right. So, how do you say tension? Senza tenzione. Senza tenzione. Very important. No tension. So, you have to relax. Deve rilassarti in here. It starts here, you know? So, you know, just paradiddles and then applying that concept to all sorts of other things. And so, one way that I do it is... Three notes. So, I wanted to be able to keep the two and four going, right? The snare, two and four, accent. Right? But not play this. So, he suggested to use the 8th and not the 16th, and to play these two ghost notes just before and just after the backbeat on the 2 and 4, on the rimshot. So, to anticipate the moment. And this was the concept of accent-rembalse. Yes, yes. So, the mix of accents and the ghost notes, right? Accent-rembalse. You have to have kind of like a balance between those things. Sort of like a, you know, how do you say a conversazione? Conversation. You know, between the mani, right? It's like a dialogue between the hands. This one is fantastic. Okay? So... I like... There's one rudiment that I use, that I kind of... put together a long time ago. It's this. C'è un rudimento che è questo che sta facendo sentire... Right? When I practice that, no fills, right? When I practice that, no fills, right? When I practice that, no fills, right? Just that, only. Right? Until I get the right sound, the right mix of accents, and you know... To find the right balance between accent-rembalse and ghost. Yes. So I substitute this sound for a ghosted note. Al posto della ghost, utilizza l'apertura e chiusura del charles. Right. So you have accents, here, here, right? Or here, right? And then you have the ghost sound, this, with this, right? So you have this, 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 and this. So, then you can create this kind of mix of rhythms and melodies, right? With these voices. So, with these elements of the kit, you can create a mix of rhythm and melody. Right. So, sometimes when I practice, I'll just sit and do this. Okay. Just move the bass drum, substitute back and forth. Okay. So, if you turn the house every time. So, anyway, it's crazy to hear the groove, here, when you hear the drums, you say, wait, let me understand, now I see them. And I say, oh, okay! The greatness is just to hear them here. You realize that there is no computer in the world that can do anything like that. It's kind of like the flow you have in playing that groove. Well, you know, maybe it sounds complex, sounds difficult, right? But these are just exercises that I make up for myself, right? That I try to perform them in a real musical way, right? So that it's just not an exercise. Dice, non è propriamente un esercizio, un esercizio che io cerco di utilizzare nel mio modo, ma poi di applicarlo nella musica suonata. E' un altro sapore completamente, sì. E' un altro sapore completamente, sì. E' un altro sapore completamente, sì. Visto che sto sulla campana, Franco. So che avevi una domanda sulla clave per Dave, no? No, la domanda era questa. Quanto è importante la clave nella musica mondiale, insomma? Spero, ma sì. Spero, ma sì. L'importanza, perché tu capisci l'italiano, io lo so. L'importanza della clave nella relazione con la musica funk. Dice che non lo sa esattamente, non la vede così, perché lui ha imparato a suonare prima di comprendere tutto il discorso della clave. E questo è un po' della clave. Ma quello che mi ha insegnato è come posizionare il groove che sta suonando meglio nella musica che sta facendo. Certo, sì. E poi comprendendo questo, ma non... Perché io non gioco la musica latina per sé. Io ho ascoltato e ho giocato, certo? Ma non mi considero un'esperto in questo mondo. Noi non si considera un'esperto nel mondo della musica latina americana. L'ha utilizzata per migliorare le cose che suona in altri contesti. Certo, ma di fatto io quando faccio questo lo chiamo sapore. Perché serve solo un pesettino e non è la specifica stile. La musica latina americana, la musica latina americana, la timba... la modena cubana, la musica moderna, right? E anche la modena, La musica brasiliana, quindi uso questi concetti. Usi i concetti relativi a la musica moderna, cubana, brasiliana. Sì, la musica braziliana ha la clave. La musica brasiliana ha una clave. ...e un po' di... I think that's a partito alto, kind of a rhythm, right? So, you can take funk beats and kind of play them backwards, and it fits exactly with that. I've heard an example of how to use the key, and it fits practically in a groove funk, so it's the flavor of the tune, in short, the duplication. We're at the second part, the second part, which I asked David to make, one of the books that we and you know very well, and I think, I hope everyone, who didn't do it, I'm sorry for them, but Future Sun is a book made in time and in the future, even today, in the future, this book. It's still in the future today, this book. It's still in the future, right? It's still in the future, right? And, nothing, the important thing now, I'd like to ask you a question, it's just one of the important things, there are many concepts inside, right? But I'd say, right, the time is what it is, and the permutation, the permutation, right? Let us explain a little bit to our audience. Let's talk about the permutation. Yeah, of course. So, permutation was, the basic concept was taught to me by a teacher that I had in college, okay? And permutation, basically, it's a math, mathematical term, and it has to do with all the possible ways you can order a group of numbers. And so, rhythm is based in mathematics, right? Math being an infinite concept, right? So, the amount of variety that you can find in a simple number of beats is endless, it's infinite, it's amazing. Essendo la music un concetto matematico, ci sono infinite possibilità di creare groove. So, it encourages you to think about rhythm and how you construct your beats as like modular. One piece can fit with another, like Lego, you know? Yeah. Musical Lego. Musical Lego. Cioè, creare dei, utilizzare dei blocchi collegati tra di loro a livello musicale, come se fossero dei Lego, insomma. You know, so, the basic way to understand it is if you have four numbers. One, two, three, four. You can order them. Four, one, two, three. Three, four, one, two. Two, three, four, one, two. Sto spiegando le varie differenze in cui ordinare la numerazione se pensiamo a quattro momenti. Praticamente parte da una figura, poi vedremo le parti scritte, vi daremo il PDF, no? Comunque, parte praticamente dall'ultimo... È come far slittare avanti tutti gli uomini. La parte diventa la prima, perciò se sono 16 note, fa la perdita di 16 note di permutazione. Cioè, rientra la cosa veramente... Che è quello che c'è nel libro. Cioè, che è quello che c'è nel libro. There's many ways that you can do this, but the way that I prefer, kind of like how I start people with it, right, is to understand, for instance, like four quarter notes. And we'll just take... We'll start with just play time like this. All right? Two, three, four. So, you have four bass drum notes, quarter notes. Quattro note di casta, quattro. So, let's start with one. Right? So, I can move that bass drum note to the second beat, right? So, every time I move it, it creates a different time feel or a different beat, right? So, as you move things around, you can even create those things on a very simple level. It doesn't have to be... You don't have to think of it as a real complex thing. It's a simple concept that you can apply to the way that you play. You can build... You can... How can you say? You can adapt it to your own way of playing. Il concetto lui ha preso un colpo di casta l'ha spostato avanti sempre di un quarto in una maniera estremamente semplice. quindi ha utilizzato la permutation solo per la cassa. Però dice, lo puoi adattare in qualsiasi modo. Lo puoi adattare per un elemento o anche per più elementi. Quindi è un concetto su cui lavorare che non ha un modo solo, no? Fondamentalmente di essere... Certo. Ok. It also teaches you the importance of counting. E ti aiuta a capire l'importanza del counting. Right. So, when I first started with Tower Power and I started playing a lot of crazy beats and all that stuff, right? Everybody was, you know, like, incazzato. Crazy. What is the one? Yeah, exactly. Diceva che all'inizio con Tower of Power tutti erano incavolati perché non riuscivano a capire tutti questi crazy, questi groove pazzeschi. So, what I would encourage everybody to do was, why don't you just count? Allora gli ha detto, perché non contate? And of course, everybody's, you know, crazy about it. but the leader of the band, Emilio, he really liked drums and he liked what I was doing, right? So he made everybody count. Quindi, però Emilio che era il leader e diceva, no, no, a me la batteria piace così, quindi contate. It changed the way that we played together. E ha cambiato il modo in cui loro hanno cominciato a suonare. Because if you're really going to play well, we call it owning something. You have to own the time. It has to, you have to make it yours. Devi fare in modo che il tempo ti appartenga, che sia una cosa su cui hai il controllo. Right. And so what the permutation thing does, especially for us, right, is it really helps you to get inside all the beats. E la permutation ti permette di capire tutta la sua divisione dei beats. It's like studying like studying language. Come studiare una lingua. You know, all the ways that you can apply the words that you know in a conversazione. In una conversazione. That sort of thing. So, we did quarter notes. Right. So now, let's move to the bass on the same thing with eighth notes. So there's eight eighth notes in a measure of four or four times. Right. One and two and three and four and one, two, three, four, five, six, seven, eight. Right. So eight places where we can pick the bass drum. There's one. Right. And then it goes to the and. One and two, three, four. One and two. It just keeps moving all the way through. Now I've done the example with the house that you can move in the eighth eighth. So you can do that with sixteenth notes. One and two and a three and a four, however you count, right? So it's sixteen, four to each quarter note. So it's a subdivision of four notes for each quarter. So in base on how you want to do the counting. There are sixteen notes to fill. That you can put the bass drum. Right? So you start here. So the next one is the E or the second sixteenth note of beat one. Then the and of one. One and two, three, then that. And it goes on, you know, all the way through. right? So then you can apply that to beats. Let's take a beat, kind of a crazy one. But let's like this. It makes you feel a little crazy. So I'm going to permutate that now by quarter notes. Ora lo permuterà rispetto alla nota di quarto. I'm going to take that open high hat that's on beat four. One, two, three, four. Apertura sul quarto quarto. And I'm going to move it around to beat one. E lo sposto sul beat number one. And it's going to make everything move one quarter note away. E lo sposterà sempre avanti di un quarto. Right? But you have to count so that you understand where it's going or else you'll go que cosa? So counting is very important. so it works that way with any sort of rhythmic idea that you have. Think about that. If Emilio if Emilio said no I don't like that kind of plane. Se Emilio avessi detto no è vero è vero è vero quello che succede qua. È vero troppo facile. No, fa la semplice. Fa la semplice. ok, sempre parlando del nostro bellissimo future sound di David ci farà sentire praticamente della permutazione dello studio 13 chi avesse il libro già lo va a prendere subito vado a prenderlo perché è questa una delle pagine che tutti abbiamo studiato e compreso e direi obbligatoria. ok ok so now we just talked about permutating quarter notes eighth notes sixteenth notes abbiamo fatto la permutazione dei quarti ottavi sedicesimi and then we played a groove that was a sixteenth note style groove that we permutated by quarter notes abbiamo fatto un groove in sedicesimi che permutava ogni quarto con l'esempio del charleston che si apriva sull'uno 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 tra i quarti puoi usare la permutazione in vari modi per esprimerti come ti pare in quel tipo di modi ok 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 qui adesso facciamo con l'esempio della permutazione che è sei e sei e otta perché è una frase no? e adesso cominciamo a prendere una frase so in this in this book it's written as twelve eight twelve eighth notes in a bar of four four one and a two and a three and a four and a one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve right? so triplet so with the triplets you can play the accent on the down beats you can play it on the second note of the triplet so what this does is it takes each beat and it permutates it by one eighth note ok quindi lui ha fatto sentire un esempio con le terzine dove l'accento può essere sul primo, sul secondo, sul terzo, ottavo della terzina in questo caso lui prenderà un beat intero e lo permuterà di un ottavo avanti so what i need you guys to do is i need you for you to let's see everybody do it teo you can do it too vai the bands like so so there's the time right there all right sarà dura stare su Dave Garibaldi ragazzi sarà dura this is our band ok ok so here we go one two and we're going to move one eighth note togliamo remove togliamo un'ottavo spostiamo la permutation here we go one two three four two three four two three four five five two five now we're going to move again here we go one two three four so four and so it's just cool keeps moving yeah like that so another way to do this is to play exercise one so i was showing you earlier un altro modo è quello di prendere esercizio uno and so you add a bass drum note which creates a bridge to the next permutation e creare una un bridge con one bass drum note con una nota di cassa aggiungi una nota di cassa per creare un bridge per la successiva permutazione per l'esercizio successivo ok quindi è un altro modo di applicare lo studio di questa permutation di future sounds so i'll give you the the print out you know the pdf and you can post you can post the pdf la novità questa è la novità è un pdf non sviluppo istruosivo esatto esatto quindi suonare quattro battute una battuta di passaggio e poi la permutazione successiva all right so here we go let's get one two one four five 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 like that wow hai beh franco hai beh è basic è basic mi colloca bianchi è basic è basic per i professionisti no è questa cosa ma quelli giampati ma quelli giampati ok and then the third way that you can do this the third way to practice this is that open hi-hat you can add add or subtract one poi togliere o aggiungere un'apertura di hi-hat and it turns everything around and kind of makes a little circle around sposta tutto quanto in maniera ok so here we go ma banda let's go here we go one two three qui 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 1, 2, 3, 4, perfetto! L'esercizio non sono il migliore giusto in Tower of Path Certamente non sono il bassista di Tower of Path Ma si può fare anche con la clave questa Can you play even with the clave? No, super questo Molto difficile Molto difficile No, dico a parte Cioè con la clave di accompagnamento No, ternario Ok, so you play the down beats Like this And you play the clave Ok, bella banda! Si, si Ciao Aspirina In grandezza In grandezza ragazzi Uno impara il controllo qua eh Ah beh sicuramente C'è anche per il controllo Tra l'altro Eccezionale Cos'altro devi dire? E cosa vuoi dire dopo ciò? Ah no Io chiederei lì andrei a casa Una cosa che devo dire vorrei che Invitare Teo che stavolta viene qua che è il nostro produttore Teo vieni qua Teo producer vado via io Vado via io e lascio la scrannina No, no Stai tutti insieme Vieni, vieni E diciamo è il responsabile Lui è il nostro regista Regista Produttore Tecnico Fra tutto lui Qui siamo in tantissimi Ma no, tu devi dire che hai dieci persone che lavorano qua Sì, ce ne sono quindici della verità Uno in Giardino e Stagliandoletto Benissimo Che vi devo dire? Io ringrazio Questa qua è una roba unica ragazzi Si Questa è una roba unica Perché per me sentire Davies Qua E capire E understand Your groove Your flow Your dynamics It's priceless Incredibile L'ultima cosa che lui ha fatto di libri C'è Mi mancano un paio di libri suoi No? Ci sono quasi tutti ovviamente E li lascio i libri Questi qua sull'infra Noi vediamo Funky Beat Abbiamo questo qua Ecco Tutti i brani di Tower Questo qua Questo qua Questo qua E nel ritmo che ha fatto Questo qua mi voglio fare Molto bello Tempo Qui c'è un sacco di latin Ciao Buongiorno Questo qua è eccezionale E io tutti quanti Ho la fortuna Tutti ormai dedicati Grande maestro Ogni volta me ne dava uno Fantastico Fantastico E qui c'è Michael Spiro Anche No? Percussionista Che ho sentito a San Francisco Esattamente Nella scorsa Mamma Yeah Jesus Diaz Conga Perciò Niente Quello che ho voluto Ho la febbre E far vedere questa cosa E ti ringrazio anche Dando Grazie a te Ci ha fatto questo piacere della traduzione Io con lui riusciamo a gesticolare lo stesso Poi la musica universale Alla fine capisco Quello che magari c'è E poi spiegherà E' bello della musica E' un linguaggio mondiale Hai capito? Quella eccezionale E niente La cosa che ci tenevo Era proprio Averlo qua Visto che abbiamo qui Perché fra un po' Ce ne andiamo anche in vacanza Perciò Niente batteria Per venti giorni In fine Stop Per mutare degli spaghetti No? E niente La cosa importante Dicevo Era Farlo conoscere anche Nella visione Di insegnare Perché lui non lo dice Lui non vuole insegnare niente Io penso che lui è a me A me è vent'anni che mi insegna cose Che io da lì poi trago Muovo Faccio E divido No? Però la grande conoscenza Sua che è veramente Cioè A me ha colpito A me ha colpito Adesso sono qui da due ore Che mi stavamo di là Col pad a chiacchierare Qua bisognerebbe filmare tutto Perché a me ha colpito veramente L'umiltà Di questo uomo che ha fatto La storia della batteria Che viene lì e ti dice Vuoi sentire un bel esercizio Che sto pensando di fare Da applicare la permutation 13 In un altro modo Cioè ragazzi Stiamo parlando Stiamo parlando Di passione Great passion Questa è la passione Grande Ciao Ci vediamo alla prossima Iscrivetemi se volete iscrivermi E fa niente Ci invitiamo comunque O sennò C'era cosa che diceva Telefonatemi Tanto non ho il telefono Bellissimo Facciamo questo E' un bel finale Alla prossima Ciao a tutti Ciao 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 Ciao